Ben ritrovati a Canale 2, c'è dopo il TG, grazie come al solito ai nostri sponsor, ma anche a Emanuele Giordano che ci ha ceduto la linea dopo la sua trasmissione. Ci ha ceduto la linea. Eccoci qui anche oggi, gentili telespettatori. Canale 2 realizza tante trasmissioni durante la settimana, ma ce n'è una in particolare, la domenica, molto importante, molto seguita dai nostri telespettatori, soprattutto coloro i quali, non potendosi muovere da casa per vari motivi, motivi di salute, per l'età, per tanti motivi, preferiscono guardare, partecipare, ecco questo è il termine giusto, partecipare alla messa, alla celebrazione domenicale attraverso la nostra emittente televisiva e quindi alle 11.30 si sintonizzano su Canale 2 per vedere la diretta che noi realizziamo con la chiesa cattedrale di Altamura. E oggi consentitemi di dire che abbiamo il piacere di avere come ospite qui in studio un ospite di onore, il parroco della chiesa cattedrale di Altamura, Don Vito Colonna, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato questo nostro invito. Io ti ringrazio Arturo perché hai desiderato, voluto questo incontro e finalmente mi hai rapito perché io potessi essere qui. Con la forza. Io sono qui ad esprimere innanzitutto la gratitudine della chiesa di Altamura per questo servizio che voi rendete soprattutto alle persone più bisognose come sono gli ammalati. E devo dire da quello che sento in giro che è una celebrazione molto apprezzata perché fa sentire i nostri malati non la messa normale che uno può anche seguire su Rete4, su Rai1, su altri emittenti, però sentire e vedere la messa dalla propria cattedrale ha un fascino particolare e loro ce lo dimostrano, ce lo dicono. Io ti ringrazio anche di questa disponibilità. e si rendono presenti ogni domenica con un servizio che la telecamera rende anche più viva perché può fare le zoomate, può fare i primi piani. Allora chi sta a casa non vede soltanto un quadro fisso che alla fine può anche stancare, ma questi cameraman improvvisati, tra virgolette, ci fanno vedere anche alcuni squarci della bellezza della cattedrale che ultimamente con i rifacimenti che si sono verificati è più bella diciamo così. Ecco Don Vito, io partirei da un tema importante che sta coinvolgendo tutta la nostra comunità, per il quale tema il nostro vescovo si è anche espresso ufficialmente, però volevo sentire un po' la sua opinione sulla vicenda degli immigrati ad Altamura, questo arrivo direi annunciato perché da tempo se ne parlava, però poi è arrivato questo momento per cui ora sono presenti nella nostra città in un numero non ancora ben definito perché sembra che ne debbano arrivare degli altri. Ecco, volevo capire la posizione anche della tua chiesa, della cattedrale. La cattedrale essendo il centro, ogni giorno viene visitata da questi ragazzi che la mattina arrivano a Portabari con un furgone, per cui c'è anche tutto un problema, questi ragazzi che arrivano hanno dei collegamenti e con chi? Sono sfruttati perché qualche mese fa si parlò anche di una specie di capolariato, cioè di persone portate all'Altamura lasciate lì a mendicare e poi la sera rendevano conto a dei capi. È un problema da affrontare perché questi ragazzi verrebbero sfruttati doppiamente. E loro quando arrivano poi si distribuiscono per il centro storico, per i vari bar, le banche, le chiese, per poter prendere qualcosa. Quindi c'è questo fenomeno da anni, ogni giorno, io come parroco, ogni giorno ricevo almeno una trentina di visite di persone che vogliono dei soldi. Molte volte si accontentano anche di un euro, però è chiaro, sommato a tutto quello che possono raccontare. Perché si parla del caporalato per quanto riguarda la raccolta dei pomodori, però nessuno mai affronta questo argomento, che è noto e risaputo. Ce ne siamo accorti tutti. Poi per quanto riguarda il grande problema che in questi ultimi giorni ha interessato un po' la città di Altamura, è un problema delicato e difficile. Perché è facile schierarsi contro per salvaguardare il lavoro degli altamurani, per salvaguardare quelli che ad Altamura non hanno posto in tante realtà. Però d'altra parte noi come cristiani non possiamo accettare un'esclusione. È chiaro che ci poniamo il problema. Questi cosa faranno una volta ad Altamura? Bivaccheranno? Saranno alla merce di chi? Questo è il problema. Però noi non possiamo negare un minimo di ospitalità, un piatto della biancheria. Tutto quello che può essere utile è che le parrocchie di Altamura... Io dico sempre che se le parrocchie di Altamura chiudessero i varchi aperti per accogliere questi nostri fratelli, il Comune andrebbe in tilt. Perché gran parte di questi poveri vengono aiutati ogni giorno dalle caritas parrocchiali. Quindi le parrocchie svolgono una funzione sociale che invece dovrebbe... Abbiamo 40 famiglie che seguiamo con la busta dei viveri, con pagamento anche di bollette delle varie utenze e così via. Quindi è un grosso problema. Quindi questo dato è importante. Quindi solo la cattedrale aiuta circa 40 famiglie, che sono quelle che hanno chiesto aiuto, sono emerse. Ma quella cosa più delicata per me, che mi fa anche intenerire il cuore, è che molte volte vengono degli anziani che non ce la fanno con la pensione. E hanno i figli con i problemi anche di famiglia. Tu sai molto bene che a volte i figli si rivolgono ai genitori per chiedere qualcosa. E molte volte questi anziani non hanno neanche da mangiare. Quella è la cosa che ti intristisce. Perché sono persone che hanno dedicato la vita al lavoro, che si sono sacrificati per i figli. E adesso, quando la vecchiaia dovrebbero viverla in maniera più serena, si trovano pure con questo grosso problema. Questo è il centro storico abbastanza evidente. Quindi ci sono una quarantina di famiglie che voi... Sì, noi come parrocchie. Ma tutte le parrocchie di Altamura hanno, in misura maggiore o minore, famiglie che noi aiutiamo. Ma questo per rispondere a quanti invece, proprio in questa circostanza, hanno asserito che non ci sono problemi in Altamura, stiamo tutti bene. Questa è la realtà. Una realtà che è un po' sconosciuta, un po' sommersa. Grazie a voi si riescono a comprendere tanti fenomeni. Il problema esiste a livello sociale, a livello economico. Non siamo noi chiamati a risolverlo. Noi siamo chiamati soltanto per quello che c'è possibile, a non far mancare il minimo indispensabile per una sopravvivenza. Questo è un bel argomento. Per i nostri politici, speriamo che abbiano ascoltato tutti, compreso il nostro sindaco, che sappiamo essere attenti su questi temi. Però è una cosa interessante, importante, perché molte volte vengono sottovalutate queste situazioni. Immaginate che la diocesi da anni assicura il pasto gratuito a molte persone. Si vorrebbero potenziare queste strutture, queste possibilità, però dobbiamo fare i conti anche con quello che è il budget di cui dobbiamo disponere. Quindi ritornando agli immigrati, cosa possiamo suggerire agli altamurani su questa situazione? Io penso che non dobbiamo essere con una decisione drastica. Sono qui, rubano il lavoro a noi, sono delinquenti. Ci sono i buoni e i cattivi, ci sono le persone. Noi abbiamo conosciuto tanta gente, anche disponibile, che ha voluto fare dei percorsi. E' chiaro che poi, quando non si trova il lavoro, non si trova disponibilità, ci sono altri canali, quelli negativi, che riescono a prendere anche i giovani. Captare proprio. Per la malavita, per altri servizi. Tra l'altro, questi ragazzi che vengono lasciati dal pullman in prima mattinata, durante la settimana, ora, a differenza del passato, vengono portati anche la domenica. Non so se lei ha notato questa cosa. Sì, sì, ma tutti i giorni. Prima invece il sabato e la domenica erano esclusi. Ora anche la domenica. Evidentemente c'è un lavoro costante, continuo, di queste organizzazioni. C'è qualche cosa che bisognerebbe un po' indagare. Io so che a Bari, diversi mesi fa, hanno posto il problema del capolariato a questo livello. Tu facevi prima riferimento ai pomodori. Anche perché poi questi che arrivano ad Altamura non possono lavorare proprio per motivi di legge. Gli viene impedito di poter essere applicati in qualsiasi lavoro. No, ma fin quando si mettono davanti a un bar, a una chiesa e chiedono, va bene, a me quello che dà anche fastidio è quando, per esempio, capita davanti alla catena che inseguono le persone quasi a distorcere con un po' di forza. Quello è brutto. È una violenza. È brutto perché ci bisogna rispettare tutti. Allora tu, passa una persona, chiedi, se non ti dà niente, pazienza. Troverai qualche altra anima generosa che ti darà un minimo per poter poi vivere alla giornata. Anche perché Altamura ha un problema proprio di controllo da parte delle forze dell'ordine, per cui l'arrivo di questi immigrati può rappresentare un problema in più. Ecco, speriamo che non accada nulla, insomma, che tutto ritorni alla normalità. Bene, parliamo invece del periodo che stiamo vivendo. Questo è il mese di Mariano per la cattedrale. È un momento importante perché, tra l'altro, giorni fa l'abbiamo anche intervistata nel nostro telegiornale, abbiamo fatto riferimento proprio alla festa patronale di Altamura, che non viene messa in evidenza come invece dovrebbe essere, come accade in altre città. Che cosa ci può dire? Il mese di Mariano di maggio è un mese molto sentito dalla gente, per cui nelle case molte volte ci si incontra per recitare il Santo Rosario. Noi in cattedrale quest'anno abbiamo dato grande valore a un evento. Il 13 maggio, l'altro sabato, del 17, durante la Prima Guerra Mondiale, ci furono le apparizioni di Fatima. Per cui quest'anno abbiamo celebrato il centenario. Il Papa Francesco, il 12 e il 13, è stato in Portogallo per canonizzare i due pastorelli Francesco e Giacinta. E lo abbiamo fatto ponendo una piccola statua della Madonna di Fatima nell'atrio della Borsi, perché questa è un'altra idea che mi è venuta sin dall'inizio, cioè valorizzare il corso, che è luogo di passaggio e di passeggio, la sera di maggio, con un richiamo a un Ave Maria, a un pensiero mariano. E vedo che molta gente che passa per i corsi fa un segno di croce, quindi viene un pochettino sollecitato a pensare alla Madonna. Quindi questo per quanto riguarda il mese di maggio. Abbiamo fatto anche il 13 maggio una processione all'interno del centro storico, molto seguita, qui Frambo. Per quanto riguarda il mese di maggio, il 5 maggio, c'è anche la festa patronale. Su questa festa patronale noi abbiamo la storia che ci racconta. Prima si festeggiava il 5 maggio, poi si è spostato il tutto ad agosto, perché il 14 e il 15 agosto Altamura viveva anche un periodo molto importante, il rinnovo dei contratti, la vita sociale, la chiusura anche del raccolto. E poi negli anni è andata scemando, perché le vacanze estive hanno fatto sì che il ferragosto si potesse vivere al mare e non in paese, anche perché Altamura la domenica dopo l'assunta, dopo il 15 agosto, ha la cavalcata, che è una manifestazione folcloristica, molto seguita, spettacolare. L'asta della bandiera. Quindi la festa patronale, da quando sono parroco in cattedrale, l'ho detto con chiarezza che prima uscivano due statue, al 5 maggio, Sant'Irene e San Giuseppe, il 15 agosto usciva Sant'Irene e l'assunto, ho riportato, come dice la liturgia, le norme, ogni santo al giorno suo. Quindi abbiamo fatto San Giuseppe, che è il copatrono di Altamura, il 19 marzo con una processione all'interno del centro storico, con due temi fissi, la famiglia e il lavoro. Ha fatto una piccola rivoluzione. No, piccoli cambiamenti. Poi il 5 maggio, con una novena, la festa di Sant'Irene, che ormai è solo una festa religiosa, perché anche negli ultimi anni una grande collaborazione con l'amministrazione, non c'è più stata, perché mentre altri paesi hanno la festa patronale, dove l'amministrazione dà un sostegno, un contributo essenziale, noi qui ad Altamura, insomma, devo dirlo anche con un certo rammarico, al di là delle persone, che negli ultimi 15 anni non c'è stato più niente. Per cui la festa ultima celebrata il 5 maggio è stata soltanto una manifestazione religiosa con la partecipazione di tutti i gruppi ecclesiali di Altamura. Quindi è la festa, dopo quella del Corpus Domini, quella con più partecipazione. Però solo religiosa, abbiamo solo pregato. E quindi qua possiamo lanciare un vero e proprio appello all'amministrazione comunale per dialogare con Don Vito Colonna su questo tema, ma non solo, insomma, sedersi a un tavolo e cercare di capire come valorizzare questa festa che secondo noi va realmente tirata su, insomma. Per quanto riguarda l'aspetto religioso, noi continuiamo a fare quello che ci compete. Se poi avremo una sensibilità da parte dell'amministrazione, sarà il nostro compito anche collaborare e vedere cosa poter fare. E tutto si può fare. Ci vuole solo sensibilità da parte dell'amministrazione perché molte volte magari si sostengono iniziative di dubbio interesse cittadino e invece poi magari non si sostiene la festa principale, che è quella patronale della città. Lo sapete, l'asta della bandiera e la cavalcata vanno alla grande, ogni anno è un grande festeggiamento, funziona, ma soprattutto grazie all'associazione, suppongo, perché non hanno neanche loro un grande aiuto dal comune di Altamura. Però se ci si siede, magari si comprendono quali sono le esigenze, probabilmente si riuscirà anche a trovare una soluzione per questa festa che è importante per la città. Può rappresentare un volano di turismo? Anche questo? Perché no? Perché le feste patronali sono quelle che poi vengono vissute anche dai turisti quando ci si sposta nelle altre città. Negli ultimi anni, per esempio, l'effetto Matera ha veicolato molte presenze ad Altamurno in cattedrale. Tu immagini che io sono stato quasi costretto a spostare la messa quotidiana che prima si celebrava in cattedrale alle 10.30 a San Michele, perché in cattedrale è un via vai continuo di turisti, per cui anche i lavori ultimi fatti di pulitura, di restauro, i matronei, il museo diocesano, sono quello che la chiesa di Altamura ha potuto fare e noi speriamo che anche a livello politico ci sia un'attenzione maggiore al turismo in genere, perché sarebbe un'opportunità maggiore per Altamura. Anche perché sappiamo che qualche turista in passato ha lamentato questa limitazione di orari anche per l'apertura della cattedrale. Se invece il comune desse una mano, probabilmente si riuscirebbe a tenere sempre aperta questa chiesa. No, ma attualmente la cattedrale è aperta dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Quando ci sono dei gruppi organizzati, noi lo mettiamo a disposizione. Certo, se vengono due o tre persone, dalle 12.30 alle 4 è chiusa, ma come tutte le realtà anche richiese del mondo. Però se uno si organizza, c'è il turismo che è sempre disponibile per poter anche aprire e rendere la cattedrale aperta secondo le esigenze. Don Vito, io la ringrazio per essere stato qui con noi in questa trasmissione. Ci auguriamo che lei ritorni al più presto per parlare anche di altri temi importanti, perché so che ci sono un sacco di fedeli che la seguono e quindi è giusto che lei ogni tanto diciamo relazioni anche attraverso questa trasmissione si metta in contatto con loro. e hanno senz'altro piacere di vederla anche qui in questo programma pomeridiano. Allora, grazie Don Vito Colonna, parroco della cattedrale di Altamura, lo conoscete tutti e abbiamo avuto veramente il piacere di averlo qui con noi quest'oggi. Grazie a tutti, appuntamento domani con Canale 2 C'è dopo il Tg. Domani, come al solito, come accade ogni mercoledì, ci sarà Felice Griesi al mio posto. Non ci alterniamo, lo sapete, però l'importante è che Canale 2 C'è, questo è l'importante. Grazie a tutti, a risentirci a domani.